Ci troviamo all'Osteria del Sole di Cesenatico per la seconda tappa dell'appuntamento Romagna Mood con due ospiti d'eccellenza del mondo del giornalismo, Federico Taddia e Marino Bartoletti. In questo evento il tema è stato la riscoperta dell'identità culturale romagnola e parlare di ciò non può coinvolgere anche lo sport. Lo sport, come mai qua lo sport è vissuto con questa passione ed è anche nido di così tanti campioni in tutti gli sport esistenti. Sarà la forza dei campanili probabilmente, per cui nascendo tante rivalità e nascendo tante competizioni naturali alla fine c'è una selezione, una maturazione che altrove dove si è più uniti non è consentita. Quindi è sano agonismo che poi è figlio della passione, della sanguinità tutta romagnola. Dico noi perché io mi sento fieramente romagnolo, noi siamo riusciti a eccellere in tutti gli sport perché abbiamo avuto campioni olimpici di ogni tipo, abbiamo avuto campioni motoristici di ogni tipo. Forse rispetto agli emiliani non ci siamo saputi costruire le macchine e le moto però ci abbiamo vinto sopra noi con le macchine e con le moto. Adesso senza fare dei sofismi è chiaro che non è più tempo per parlare di divisioni, di polverizzazioni però la Romagna ha una sua straordinaria identità.